Una commissione indipendente delle Nazioni Unite accusa Israele e sette gruppi armati palestinesi, tra cui Hamas, di crimini di guerra. Lottiamo con forza per la pace il nuovo appello di Papa Francesco, pronunciato a margine dell'udienza generale di questa mattina in Piazza San Pietro per tutti i conflitti ancora in corso nel mondo. Mancano poche ore all'inizio del G7 a guida italiana, in Puglia tutto pronto per accogliere i potenti della terra, tra loro per la prima volta anche il Papa, che interverrà su pace e intelligenza artificiale. Ondata di calore sullo stivale e rischio incendi in Sicilia, in Grecia le temperature oltre i 40 gradi costringono la chiusura dell'acropoli nelle ore più calde. 20 e 31, buonasera dalla redazione del TG 2000. In apertura la guerra in Medio Oriente perché la commissione indipendente dell'ONU ha accusato Israele di crimini contro l'umanità e Hamas di crimini di guerra dallo scoppio del conflitto a Gaza del 7 ottobre scorso. Per Achille Dolfini. Le accuse arrivano dalla commissione d'inchiesta creata dal Consiglio per i diritti umani dell'ONU. Tanto l'esercito di Tel Aviv quanto gruppi armati palestinesi si sono macchiati di crimini di guerra. Non solo, Israele nella sua offensiva su Gaza ha commesso crimini contro l'umanità come sterminio, persecuzione di genere contro uomini e ragazzi palestinesi, omicidio, trasferimento forzato, torture e trattamenti inumani e crudeli. Tutti coloro che hanno commesso crimini devono essere chiamati a risponderne le conclusioni della commissione guidata da Navi Pillai. Hamas parla di 37.202 morti e 84.932 feriti nella striscia dal 7 ottobre e vorrebbe garanzie scritte da parte degli Stati Uniti per il ritiro delle forze israeliane da Gaza prima di firmare l'accordo su un cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi. È ora di smettere di mercanteggiare sulla tregua, dice da Doha in Qatar il segretario di Stato americano Blinken, sottolineando che un accordo per il cessate il fuoco su Gaza ridurrebbe enormemente le tensioni tra Israele e Libano. Proprio oggi un alto funzionario di Hezbollah ha fatto sapere che il gruppo militante intensificherà i suoi attacchi contro Israele dopo l'attacco di ieri di Tel Aviv nel sud del Libano durante il quale è rimasto ucciso un alto comandante dell'organizzazione. Abbiamo una posizione diversa dagli altri paesi nato sulla guerra in Ucraina ma non opporremo il veto. Lo ha dichiarato il premier Orban e intanto si aggrava il bilancio delle vittime dell'ultimo bombardamento russo che ha preso di mira la città natale di Zelensky. Vito Rettor. Si aggrava il bilancio delle vittime dell'ultimo bombardamento contro l'Ucraina. I morti sono saliti a 9, 30 persone ferite tra cui due bambini che versano in gravi condizioni. I missili russi hanno colpito un condominio a Kriviri, città natale del presidente Zelensky. Dopo gli aiuti militari di Europa e Stati Uniti, la contraerea di Kiev è stata rafforzata ma secondo il governo ucraino servono ulteriori sistemi di difesa antimissilistica. La NATO sta chiedendo un impegno maggiore sulla guerra in Ucraina ma l'Ungheria di Orban non ci sta a spiegarlo. È lo stesso primo ministro ungherese che ha fatto sapere ai paesi dell'Alleanza Atlantica che sul conflitto tra Kiev e Mosca Budapest ha una posizione diversa dalla maggioranza dei paesi NATO. Questo non vuol dire, ha precisato Orban, che l'Ungheria si metterà di traverso ponendo un veto. La Russia nel frattempo va avanti senza cedimenti mostrando i muscoli all'Occidente. Nei prossimi giorni effettuerà un'esercitazione davanti alle coste dell'America. A tal proposito un gruppo navale di Mosca composto da tre navi militari e un sottomarino a propulsione nucleare ha fatto il suo arrivo oggi nel porto dell'Havana a Cuba ad appena 300 chilometri in linea d'aria da Miami, Stati Uniti. Lottiamo con forza per la pace. È il nuovo appello di Papa Francesco pronunciato questa mattina al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Ascoltiamone insieme un passaggio. E non dimentichiamo la martoriata Ucraina, non dimentichiamo Palestina, Israele, non dimentichiamo il Myanmar e tanti paesi che sono in guerra. Preghiamo per la pace. Oggi ci vuole la pace. La guerra sempre e dal primo giorno è una sconfitta. Preghiamo per la pace. Che il Signore ci dia forza. Per lottare sempre per la pace. Conto alla rovescia per il G7 di domani. Ultimi preparativi per l'arrivo in Puglia dei grandi della terra. Ecco i temi sul tavolo con Augusto Cantelmi. Dall'Ucraina al Medio Oriente, dalla sicurezza economica, alle migrazioni, all'intelligenza artificiale principale. I dossier sul tavolo del vertice dei capi di Stato e di governo del G7 che da domani si svolgerà a Borgo e Ignazia in Puglia. Padrona di casa la Premier Meloni che da due giorni si trova già nel Salento per organizzare al meglio il Summit. E lo fa con uno spirito sollevato in quanto unica leader europea uscita, vincitrice dal voto. E incontra due sconfitti, Macron e Scholz, con i quali insieme alla Presidente della Commissione von der Leyen si discuterà anche dei futuri vertici dell'Unione. Con il Presidente americano Biden si parlerà soprattutto di Ucraina insieme a Zelensky. Ma il Summit pugliese passa la storia per la prima volta di un Papa. Francesco Damanti ai Grandi della Terra illustrerà la sua visione su un argomento delicato come quello dell'intelligenza artificiale, destinato ad incidere come pochi sul nostro futuro presenza del Pontefice nella giornata di venerdì pomeriggio che sarà anche l'occasione per una serie di bilaterali con i leader mondiali. E il tema è quello della pace. Vigila di preparativi dunque una Puglia blindata che accoglie i capi di Stato e di Governo, ma anche una marea di giornalisti oltre 1700 chiamati a raccontare il Summit dal Media Center di Bari. E il recente voto europeo ha provocato forti ripercussioni politiche in Francia. Macron oggi ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a sciogliere il Parlamento, mentre il Partito dei Repubblicani si spacca sull'ipotesi di allearsi con Marine Le Pen. Sentiamo Alessio Orlandi. La vittoria schiacciante in Francia del Rassemblement National all'Europei non solo ha spinto il Presidente Macron a convocare le elezioni anticipate, ma sta provocando un terremoto pure nella destra. All'indomani dell'annuncio del leader dei Repubblicani Ciotti di un'alleanza con il partito di Marine Le Pen alle legislative del 30 giugno, lo stesso Ciotti è stato espulso oggi pomeriggio dal movimento neogollista dopo che aveva fatto chiudere anche la sede del partito. La decisione di estromettere il Presidente è stata votata all'unanimità dall'ufficio politico dei Repubblicani, la cui guida è stata affidata momentaneamente a Xavier Vellani e Annie Genevar. Sono e rimango io il Presidente, nessuna decisione presa potrà avere effetto legale. La replica di Ciotti, che con la sua mossa di allearsi con il Rassemblement National ha rotto la tradizione di un fronte unito contro gli eredi dell'estrema destra. Anche l'inquilino dell'Eliseo, oggi in una conferenza stampa, ha duramente criticato l'apertura dei Repubblicani all'ultradestra, accusandoli di tradire l'eredità storica di De Gaulle che si battì contro il nazismo in Francia. Macron ha poi invitato socialdemocratici, radicali, ecologisti, cristiano-democratici e gollisti a mettersi insieme per fermare tra 18 giorni l'onda nera. Le elezioni anticipate sono un test della verità tra chi sceglie di far prosperare i propri affari e chi vuole far prosperare la Francia, le parole del Presidente Macron. Intanto le trattative del PPE per costruire un consenso all'Assemblea di Strasburgo che dia luce verde a un bis di von der Leyen partiranno da socialisti e liberali. Iniziamo il lavoro guardando la maggioranza che avevamo. Non è stata sempre facile, ma ha funzionato. Le parole della Presidente uscente della Commissione di Bruxelles che al momento può contare su circa 400 voti, 39 in più del necessario. Tra poco andrà in onda una nuova puntata di Di Bella sul 28. Ci colleghiamo allora con lo Studio 1, con Antonio Di Bella, per conoscere i temi e gli ospiti. Buonasera. E' una puntata inizialmente pensata per commentare il voto all'europea ma che ovviamente vira su quello che è accaduto oggi. La rissa la rivedremo al VAR per usare un termine calcistico e commenteremo quello che è accaduto con diversi parlamentari. Angelo Bonelli, portavoce d'Europa Verde, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Maurizio Gasparri, capogruppo di Partito Italia in Senato, Manlio Messina, vice capogruppo di Fratelli d'Italia e Marco Tarquinio, neoeletto al Parlamento Europeo per il PD. Questo e altri commenti con un collegamento con Cadeborgo Ignazia alla vigilia del G7. A fra poco. Grazie e a più tardi. Salvaguardare l'indipendenza della magistratura, organo fondamentale nella tutela dei diritti che verrà preservato dalla influenza della politica nelle nomine e nelle carriere, è l'avvertimento di Sergio Mattarella che arriva durante l'incontro al Quirinale con una delegazione della Rete Europea dei Consigli di Giustizia. L'indipendenza della magistratura è elemento costitutivo dello Stato democratico, ha sottolineato il Presidente della Repubblica. E in arrivo il nuovo fascicolo sanitario elettronico. Consentirà la prenotazione di visite ed esami, la consultazione dei referti e la revoca del medico di base. Ce ne parla Raffaella Frullone. Una sanità sempre più digitale, una cittadinanza sempre più digitale, è uno degli obiettivi della versione 2.0 del fascicolo sanitario elettronico presentato oggi che sarà attivo alla fine dell'anno con due anni d'anticipo rispetto alle tempistiche previste dal PNRR. Il fascicolo non è una novità dal momento che dal 2020 raccoglie la storia clinica dei cittadini rendendola accessibile a tutti gli operatori e le strutture sanitarie, siano esse pubbliche, private o convenzionate. Ora lo strumento passa, rimarcano dall'esecutivo, da amministrativo sanitario, nonostante si debba comunque fare i conti con un gap tra le regioni del nord e quelle del sud che andrà sanato nel tempo. Intanto già si lavora l'ulteriore evoluzione del fascicolo stesso, ovvero la versione 2.1 che sarà arricchita di nuovi contenuti e servizi oltre a quelli già previsti, dalla dichiarazione di volontà alla donazione degli organi e dei tessuti ai certificati di idoneità all'attività sportiva. Ad annunciarlo è il ministro della Salute Schillacci che invita a superare le resistenze. Fino al 30 giugno è comunque possibile chiedere che i propri dati non vengano inseriti nel nuovo fascicolo, rifiutando così di usufruire del servizio. Ospedale nelle mani del clan 11 arresti a Napoli operazione della DDA sulla gestione del San Giovanni Bosco che sarebbe stato tenuto sotto controllo dal clan Contini, componente di rango dell'alleanza di Secondigliano. La scoperta dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli coordinati dalla direzione distrettuale antimafia. E restiamo sul tema della salute perché è stata scoperta una possibile causa genetica dell'obesità. Sentiamo Monica Di Loreto. Non è la solita scusa. Ora la ricerca parla chiaro. Esiste un gene che contribuisce all'obesità. Lo dimostra uno studio italiano del gruppo di ricerca guidato da Silvio Buscemi, ordinario di nutrizione clinica all'Università di Palermo. Studio che è stato pubblicato anche su una delle riviste scientifiche più prestigiose, Nutrition Diabetes. Lo studio ha rilevato che i portatori di anomalie a carico di questo gene hanno maggiori probabilità di sviluppare obesità. Questo gene, chiamato in causa per la steatosi epatica, spiegano i ricercatori, regola meccanismi di autofagia, ossia il processo di autopulizia delle cellule a livello epatico, attraverso i quali è possibile distrugge ed eliminare parte dei grassi consumati in eccesso. Anomalie a carico di questo gene favoriscono l'accumulo di grasso a livello epatico. Lo studio apre una nuova prospettiva poiché chi ne è portatore, avendo difficoltà di eliminare i grassi assunti in eccesso, potrebbe avere una maggiore propensione all'obesità. Lo studio inoltre chiarisce che l'insulino resistenza non è causa dell'obesità, piuttosto un meccanismo di difesa, una conseguenza che si instaura in risposta alla sovralimentazione al fine di proteggere l'ambiente intracellulare. La maggiore consapevolezza di ciò che portiamo in tavola può salvarci davvero da tante malattie. Ventilatori in dono alla carcere femminile di Rebibbia a Roma dove nel pomeriggio si è recato in visita il presidente della CEA e il cardinale Zuppi alla vigilia del pellegrinaggio che compirà in Terra Santa. Nicola Ferrante. Un dono utile ad affrontare la calura estiva. Il cardinale Matteo Zuppi varca la porta a Carraia del carcere di Rebibbia per regalare 80 ventilatori. Fanno parte del progetto CEA realizzato con l'ispettorato dei Cappellani grazie ai fondi 8 per 1000 tramite cui in totale 2000 ventilatori saranno donati a 30 istituti penitenziari italiani. Commovente la stretta di mano del cardinale una a una con le detenute. Perché la condizione del carcere è sempre una condizione in assoluto perché è priva della libertà e molte volte anche in condizioni molto disagevoli molto disagevoli. Quindi è un piccolissimo gesto molto concreto piccolo per portare un po' di sollievo e perché chi ha sbagliato non resti sbagliato. La Chiesa c'è con un impegno preciso. Cercare di essere accanto ad ogni persona e dirgli insomma che ci può essere una fiducia una speranza di rialzarsi di ricominciare di riprendere la propria vita. La gratitudine delle detenute. Un gesto molto importante perché fa troppo caldo. Un messaggio d'amore di fede di speranza e di un cammino migliore. Domani il Cardinale partirà per la Terra Santa per un pellegrinaggio di pace da Gerusalemme a Betlemme con questi sentimenti. Di dire a tutti quanti che siamo vicini e che ovviamente cerchiamo auspichiamo che venga presto la fine della violenza e il duro della pace. Eccezionale è ondata di calore nella Sud Europa particolarmente colpita la Grecia come ci racconta Luciano Piscaglia. Ancora un paio di giorni di pioggia e poi anche al nord arriverà una fase di tempo estivo mentre al Sud diminuirà l'AFA ma le temperature rimarranno alte dai 32 gradi della Calabria ai 37 gradi della Sicilia. Una vera ondata di calore e di siccità che ha colpito tutta l'Europa meridionale e toccato le punte più alte in Grecia dove le autorità sono in allerta. Oggi nelle ore più calde il termometro ha toccato i 43 gradi e l'acropoli di Atene il sito più visitato della Grecia è stato chiuso al pubblico dalle 12 alle 17. Questa è la mia prima volta sull'acropoli e il caldo è terribile dice questa turista polacca mentre alcune donne anziane si sono sentite male e sono state soccorse. Il sole è atroce oggi aggiunge una turista statunitense ma è contrariata e vorrebbe essere in cima all'acropoli anche con il caldo. I volontari della Croce Rossa e Lenica per l'intera giornata hanno distribuito bottiglie d'acqua ai visitatori in attesa all'ingresso dell'acropoli invitando tutti ad indossare cappelli e a non esporsi al sole. In diverse zone della Grecia compresa la capitale Atene le scuole sono state chiuse e il governo ha raccomandato il telelavoro per i dipendenti pubblici è molto elevato secondo la protezione civile anche il rischio di incendi. E adesso l'arte perché fino al 23 giugno la chiesa di San Marcello al Corso a Roma ospita una delle opere più celebri di Salvatore Dalì Il Cristo di San Giovanni della Croce Cristiana Caricato Nel cuore della capitale la facciata concava di San Marcello al Corso accoglie pellegrini e turisti per introdurli in un viaggio dentro la bellezza e la religiosità un percorso pensato in preparazione al giubileo del 2025 nella chiesa barocca cara ai romani per il crocifisso Ligno che custodisce dispensatore di grazie nei secoli e protagonista insieme a Francesco nella piovosa serata del 27 marzo 2020 in piena pandemia la rassegna ai cieli aperti presenta un'altra crocifissione di impatto straordinario quella dipinta da Salvatore Dalì un'opera intensa fluttuante nell'oscurità in cui il corpo muscoloso di Cristo viene colto nel momento dell'abbandono trascinato dal suo peso verso il panorama sottostante in un gioco di luci e ombre che rendono la materialità della carne e allo stesso tempo il vertiginoso mistero della sua redenzione il sacrificio del figlio di Dio che pende nelle tenebre sopra il mondo permette a quel buio di rischierarsi in un paesaggio meraviglioso di luce e di pace che è Port Ligat lo scenario che Dalì aveva davanti agli occhi nel 1951 quando dipingeva ma che è in qualche modo anche il lago di Galilea dove inizia l'avventura di Cristo quello dove lui risorto invita la chiesa ad andare nel mondo a portare speranza e in qualche modo la sponda della vita di ognuno di noi che grazie all'amore di Dio può approdare ad un porto di salvezza la prospettiva inedita scelta da Dalì fu ispirata dal disegno reliquia del Cristo crocifisso di San Giovanni della Croce secondo la tradizione tracciato dopo una visione in stato di estasi nel 1572 la scelta dei curatori è stata porre l'inchiostro su carta del mistico carmelitano proprio accanto al dipinto dell'artista surrealista andato in visita ad Avila Dalì nel 1948 rimase tramortito e avvinto da questo minuscolo ma potentissimo disegno quasi più surrealista delle sue invenzioni artistiche e concepì il dipinto straordinario che vediamo questa è un'opera quindi che include lo sguardo del padre un Cristo di cui Dalì nasconde lo sguardo quasi a sottolineare l'irrappresentabilità dell'amore infinito di Dio un'opera provocatoria che impone silenzio e preghiera che non può non interrogare ed è tutto vi lascio a Di Bella sul 28 grazie del vostro tempo per averci seguito e a presto buonasera grazie del vostro tempo